Signori, quest'oggi diamo un'occhiata a Charterstone che finalmente è arrivato ora è incredibile che le uscite siano contemporanee quindi siccome voglio giocare questo gioco con un gruppo che non mastica tanto l'inglese allora ho preso la versione italiana e fortunatamente sono uscite quasi in contemporanea quindi abbiamo un gioco legacy di costruzione di un villaggio e la Genos ha subito fatto un lavoro di cooperazione incredibile anche perché questi giochi difficilmente arrivano perché c'è veramente una mole di testo e di cose da tradurre ora Charterstone è una grande attesa, una grande richiesta e per me sarà un gioco veramente molto divertente non voglio rovinare nulla perché naturalmente ci sono cose spoilerose quindi andiamo a vedere come funzionano i step preparatori in realtà non ho neanche visto come funziona quindi lo scopriamo insieme poi cercherò di ripristinare tutto nella versione base per non rovinare l'esperienza alle persone con cui giocherò questo gioco praticamente una roba del genere allora prima di tutto abbiamo il nostro manualetto leggi questa pagina prima di qualsiasi altra cosa non aprire nulla se il gioco non te lo dice e come notate questa sulle cronache alias il regolamento con spazi delle regole e le storie che verranno rimpinguate con carte naturalmente nel corso della partita l'automa non può mancare nei giochi di Stegmaier appunto per avere delle automa dei personaggi non giocanti che interagiscono con voi qua è consigliato non utilizzarle subito perché da quello che si dice sono un pochino forti quindi per le prime partite non si utilizzano però se volete aggiungere giocatori non è male qua naturalmente ci sono delle scatole delle cose che si andranno ad aprire quando il gioco ti dice di aprirle o roba del genere abbiamo delle plancine abbiamo il mega tabellone double faced qua si andrà ad utilizzare una faccia soltanto e poi ho visto che c'è già un recharge pack per utilizzare l'altra faccia e ripristinare tutto di fabbrica per così dire con le carte che abbiamo utilizzato qua non c'è nulla ora questa è tutta la lista di charter ok quindi i forzieri dei charter che sono delle concessioni territoriali addirittura fino a sei giocatori quindi ognuno al suo abbiamo l'archivio che sarà quello dove andremo a piazzare le carte e tutti i componenti usati da archiviare qua ci sono delle scatoline che non so che cosa ci sia e non vado a guardare dentro perché non voglio rovinarmi una sorpresa ci saranno delle sorprese qua c'è l'indice che è ben magnetizzato eccolo qui e all'interno c'è tutta una sfilza di carte che ho già tolto dalla plastica naturalmente non ho ancora visto nulla ok lo scopriamo in realtà insieme con la stessa tabella che vedete avete visto in questo foglio e qua ci sarà tutta una storia robe da raccontare non ho ben idea di cosa ci sia e poi lo scrittorium questo invece non è una sorpresa perché si vede già online sono dei componenti di base per così dire quindi tutte le risorse del gioco dal dado che il nostro Charterstone ha tutti i materiali quindi il legno, i metalli, il carbone, le zucche e queste sono le monete che sono monete in vero metallo è vero metallo questo qua bello 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 ora risistemiamo un po' tutto ok andiamo un pochino a vedere la prima cosa che dobbiamo fare è estrarre la carta numero 1 vediamo che cosa ci dice ignorate il testo non vi faccio leggere cosa c'è il testo allora aprite il tabellone di gioco uno dei lati e mettilo nella plancia degli obiettivi togli l'adesivo ah ma in realtà queste carte sono degli adesivi non mi ero reso conto la scheda numero 2 ci dice la scatola scriptorium è dove riporrai componenti globali ok durante la partita questi formano la riserva generale e sono limitati come segue qui sono le monete poi abbiamo il metallo, il grano, legno, carbone, argilla e zucca il chart è anche il dado il segnalino di progresso il tabellone di gioco bello aperto la carta ci dice che il tabellone è diviso in 6 Charter che sono praticamente le concessioni territoriali e ognuna di queste è diviso in un tot di esagoni quindi in realtà 6 esagoni per Charter i giocatori andranno ad aprire il proprio forziere vediamo che cosa c'è all'interno in realtà so già cosa c'è all'interno perché la carta ce lo dice all'interno abbiamo due lavoratori che lo vedete uno grande e uno più piccolo ma in realtà non cambia nulla 12 segnalini influenza e il segnalino per tenere conto dei punti vittoria dopodiché il gioco ci dice di estrarre queste carte che sono i personaggi sono i nostri personaggi principali dovremo dare un nome a questi personaggi quindi c'è lo spazio per il nome e a ognuno corrisponde un determinato Charter quindi il giocatore per esempio Blue andrà a prendersi questo personaggio e sarà questo personaggio per il resto della campagna dopodiché andiamo ad estrarre queste carte che rappresentano gli edifici iniziali di ogni Charter quindi ad ogni Charter corrisponde un edificio iniziale per i due giocatori che ho selezionato ci sono questi due edifici tenete in considerazione che anche quello dei personaggi non giocanti verranno utilizzati dopodiché i giocatori vanno ad appiccicare il proprio edificio iniziale nel Charter di appartenenza per esempio questo cosa che naturalmente adesso non vado a fare indipendentemente dal numero di giocatori attivi gli edifici base dei giocatori inattivi sono comunque piazzati sul tabellone e potranno essere utilizzati dai giocatori attivi andiamo ad estrarre queste carte che sono gli assistenti gli assistenti andranno a fornire un'abilità specifica e come vedete ce ne sono un bel po' 8 assistenti e estraiamo anche queste carte obiettivo le carte assistente andranno mescolate e piazzate in questo spazio per poi rivelare le nuove carte insieme a queste carte qui come notate dal retro hanno lo stesso retro questo significa che gli edifici che andiamo a costruire e che hanno una cassa togliendo dopo aver tolto l'adesivo devono essere mescolate qui insieme quindi avremo la possibilità di recuperare queste carte e di aprire queste casse che conterranno probabilmente nuovi edifici o nuovi altri assistenti la stessa cosa facciamo per le carte obiettivo che vengono mescolate e poi piazzate in questa plancia il turno di gioco è veramente molto semplice nel nostro turno possiamo o prendere una pedina e piazzarlo in uno degli edifici e fare la relativa azione oppure se abbiamo tutte le pedine in campo riprendere le pedine ora se l'edificio è occupato dalla pedina di un avversario io posso andare in questo punto e fare l'azione e l'avversario viene cacciato in questo gioco essere cacciati è bello diciamo così perché se no devo sprecare un'azione per ritirare tutte le mie pedine ogni edificio ci mostra un costo che è indicato a sinistra o in basso e un effetto che è indicato a destra oppure in alto quindi per esempio se vado al tesoro vado a scartare questo simbolo indica una risorsa qualsiasi mia scelta per guadagnare una moneta se vado al mercato scarto una moneta e una risorsa qualsiasi per ottenere una carta una di queste carte con questo dorso nella plancia che abbiamo visto prima in questo spazio vado a pagare 3 segnalini influenza e 4 risorse indicate dall'eventuale carta edificio che andremo a costruire nel corso del gioco non vi faccio vedere edifici per niente perché non li voglio vedere neanche io e questo mi fa guadagnare subito 5 punti vittoria e questo simbolo indica che sono andato a costruire un edificio questo sarebbe il charterstone pagando 2 influenza e 4 monete guadagno 5 punti vittoria ed apro una cassa come detto prima queste carte che hanno un edificio una volta che abbiamo piastuto l'edificio teniamo comunque la carta e avremo la possibilità di aprire la cassa numero 2 in questo spazio che è la gran tribuna possiamo pagare un'influenza guadagnare 5 punti vittoria e andare a segnalare un nostro obiettivo possiamo segnalare un obiettivo fra quelli disposti in questa plancia ogni giocatore può segnalare un obiettivo per tipo andiamo a fare questa azione soltanto se abbiamo soddisfatto quel requisito quindi per esempio avere almeno 2 assistenti avere una risorsa per tipo avere almeno 3 segnalini influenza nel tracciato della reputazione passiamo poi al portonuvola se vado in questo spazio vado a pagare una influenza e la stessa influenza che vado a pagare non devo scartare un'altra influenza ma la stesso identico token influenza che vado a pagare va piazzata in questa tabella dei tributi in questo spazio vado a scartare la risorsa del tipo indicato e nel numero indicato quindi per esempio cibo, soldi o carte che vedete in questa plancia con questo dorso qui quindi per esempio se vado a piazzarmi in questo spazio scarto 2 cibo in questo spazio scarto 2 carte in più ho dei bonus istantanei a seconda del tipo di spazio che vado a coprire per esempio qua guadagno un punto influenza è un punto vittoria e qua invece metto un token nel tracciato della reputazione fare questa mossa ci consente anche di guadagnare 3 punti vittoria ora quando trovate questo simbolo andiamo a piazzare un segnalino reputazione nel relativo tracciato questo è il tracciato della reputazione quando andiamo a piazzare uno di questi lo andiamo a posizionare dove è indicato a seconda del numero del giocatore in questo caso 2G e nel corso del gioco andremo a piazzare i vari segnalini tutti i vari giocatori e alla fine della partita si guadagneranno punti in base alla posizione in base alla maggioranza per esempio il primo giocatore con la maggioranza prenderà 10 poi 7 poi 4 in caso di parità entrambi i giocatori per esempio se qua siamo 3 a 3 andranno a prendere 10 punti dopodiché abbiamo il tracciato del progresso che è questo il segnalino va piazzato a seconda del numero dei giocatori e ogni volta che andiamo ad aprire una cassa a reclamare un obiettivo oppure a costruire un edificio questo segnalino si muove di uno step in più se il giocatore muovendolo va a coprire uno di questi spazi facciamo la relativa azione bonus che può essere per esempio in questo caso il simbolo della reputazione andiamo a mettere un token influenza nel tracciato della reputazione questo è un'icona che attualmente non è spiegata perché sarà una sorpresa il gioco finisce nel turno in cui questo segnalino raggiunge la fine ora naturalmente vince chi ha la maggior quantità di punti vittoria alla fine e la nostra scatolina e il nostro charter ci aiuta a tenere conto di queste di varie caratteristiche fra cui le vittorie che andiamo a segnare nel corso della campagna ogni vittoria vale dai 6 ai 8 punti come indicato qua alla fine della partita e se notate ci sono anche delle stelline ogni 10 punti ecco ogni 10 ci sono delle stelline e queste stelline le andremo a segnare in questo spazio eccolo qua questa è la nostra gloria per esempio abbiamo 30 più punti e abbiamo 3 stelle segnaliamo queste 3 stelle e queste 3 stelle rappresentano le risorse monete carte bonus che abbiamo all'inizio di ogni partita quindi per esempio se segniamo 2 qui e 1 qui all'inizio di ogni partita avremo 2 risorse a scelta e 1 moneta naturalmente ci sono delle cose che ancora non so che cosa siano non so il loro significato e sicuramente non voglio rovinarmi la roba e qua notiamo anche la capacità nel senso che potremo portarci tutte le risorse e le carte andranno a finire nel nostro charter ma presumo che ci sarà un limite come indicato qua di risorse che possiamo portare tra una partita e l'altra stop mi fermo qui non voglio sapere oltre il gioco ho già scoperto troppo in realtà anche se comunque ho visto un filmato in inglese quindi avevo già l'idea per essere già pronto sul da farsi e per il resto è tutta una scoperta e quindi voglio rimettere tutto così come era e lasciare l'impressione a chi lo proverà con me di aprirlo per la prima volta quindi rimetto tutto così come era così come era aperto durante l'apertura prima e qua sì sarà una bella esperienza secondo me sarà veramente un bel gioco ora non so l'evoluzione sicuramente quello che vi ho fatto vedere la meccanica che vi ho fatto vedere è un worker placement ok e ci sono pochi spazi ma perché all'inizio della partita è così e noi non sappiamo che cosa ci sarà d'altro e siamo molto curiosi e molto frementi e ho già notato un po' di fremenza da parte del pubblico che accoglierà bonariamente questo gioco quindi saluti iiii iiii